Aveva ucciso con una coltellata la cuore all'esterno di una discoteca a retina in via Galvani Piro-Moccia, una giovane di origini albanesi. Adesso la condanna per Vasile Izvorano, una 29enne romeno, è definitiva. Dovrà scontare ancora 19 anni e 7 mesi di reclusione. L'uomo è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Monte Marciano in provincia di Ancona. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai suoi difensori e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze ha emesso l'ordine di carcerazione. I militari lo hanno prelevato dalla sua abitazione dove era agli arresti domiciliari dal 2015 per portarlo nel carcere di Monte Acuto dove sconterà la pena residua per poi essere sottoposto all'ulteriore misura di sicurezza di tre anni di libertà vigilata. Il delitto si era consumato nella notte tra il 7 e l'8 settembre 2014 all'esterno della discoteca Next in seguito ad una rissa che vide contrapposti la vittima, due amici e due fratelli. All'origine dello scontro ci sarebbe stato un equivoco. A fare il resto ci pensarono molto probabilmente i fumi dell'alcol, due le coltellate che colpirano Piro Moccia, una al cuore, quella letale. Vasile e Zvoranu con la sorella Livia furono trovati all'indomani dai carabinieri per lui schiattarono le manette per omicidio volontario in concorso con la donna. Il 29enne in primo grado era stato condannato a 26 anni, pena poi portato a 19 in Corte d'Appello. Adesso la carcerazione è 17 anni e 9 mesi ancora da scontare.